Strada Statale 85, all'altezza di Rocca Ravindola. Sono da poco trascorse le 12.30. Qui qualche minuto fa si è verificato un grave, gravissimo incidente. Purtroppo un uomo ha perso la vita. Si tratta di un 72enne, un pensionato di Santa Maria Oliveto. Viaggiava a bordo di una Dacia Sandero. Al suo fianco la moglie. L'impatto nel tratto di carreggiata all'ingresso dell'ipermercato Maxicina. La violenza dello schianto, testimoniata dalle condizioni dell'utilitaria, trasformatasi in un intreccio di lamiere. Il corpo dell'uomo alla guida, sbalzato all'esterno dell'abitacolo. Vani i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118. La salma, coperta da un telo verde, era ancora sulla carreggiata, mentre la moglie veniva trasportata d'urgenza al Veneziale. I rilievi di rito nel tentativo di accertare la dinamica del sinistro. L'unica cosa che si evince con certezza è che il tir viaggiasse in direzione di Venafro. L'auto, forse, era diretta a Isernia. E qui si è radunato un capannello di persone, molti residenti, poca voglia di parlare. Però il sentimento comune è quello relativo alla pericolosità di questo tratto di strada. Oggi si è verificata la tragedia, ma questo tratto di strada molto trafficato è sempre pericoloso, a causa della velocità con cui le auto vi transitano, lo sfogo. Ma purtroppo questo, la strada è quello che è. Si cammina troppo sostenuto e non c'è un controllo qua. Si cammina abbastanza qui. Si cammina abbastanza, non c'è un controllo di velocità, niente. Partendo già dalla strada giù, quando venite da Venafro, dobbiamo dare noi la presenza a chi ce lo stop. Pensate un po'. E si provano spesso in genere anche laggiù. Ma anche una rotonda sarebbe comodo, ma se c'è lo spazio non lo so, io questo me lo intendo. Mentre parliamo sono un corso i rilievi delle forze dell'ordine nell'intento di accertare la dinamica del fatale incidente. Intanto qui si è già formata una fila chilometrica di auto in entrambe le direzioni.